Si è tenuto il primo consiglio comunale del nuovo governo di Pesaro a guida Biancani. Vari i punti affrontati e votati durante questa occasione, tra i quali su tutti, spicca ovviamente quello della nomina del presidente del consiglio comunale, che sarà ricoperto da Enzo Belloni, e del ruolo da vicepresidente, che invece sarà ricoperto da Serena Boresta. Dopo 15 anni di assessore, questa nuova esperienza chiaramente mi stimola, sarà meno operativa dal punto di vista del confronto con la comunità, ma sarà decisamente più operativa dal punto di vista politico. Dovremmo in qualche modo gestire i consiglieri, ci sarà la garanzia per tutti, sia per la maggioranza che per l'opposizione, e l'affrontiamo per i prossimi 5 anni con entusiasmo, energia, dinamismo e soprattutto rigore, perché il consiglio comunale non è un bar, quindi bisognerà in qualche modo rispettare quelle che sono le regole, i regolamenti, e sono sicuro che tutti i consiglieri sapranno comportarsi al modo giusto, io per primo. Un nuovo governo, un nuovo consiglio comunale, ma alcuni volti sono già noti, riconfermati infatti dai risultati elettorali che hanno dato loro la possibilità di tornare a rivestire la carica di consigliere comunale un'altra volta. Questo è il terzo mandato che faccio, sono stato eletto con la lista del candidato sindaco Marco Lanzi, ho avuto la fortuna di essere scattato anche in Regione. Gli obiettivi sono sempre di dare un servizio ai cittadini, alla città, cercando di dare sempre maggiori risposte a tante esigenze che i cittadini ci chiedono. Questi cinque anni ha aumentato la consapevolezza di questo ruolo, purtroppo non siamo al governo della città, ma faremo e farò personalmente la più grande opposizione che va fatta in questi casi, cercando di contrastare le scelte scellerate che l'amministrazione comunale farà, ma allo stesso tempo facendo proposte per cercare di portare dei correttivi laddove sarà possibile. Noi siamo chiamati a fare l'opposizione, la faremo in modo serio, in modo attento, in modo accurato, senza sconti e senza regali. Lo faremo perché è importante che ci sia un controllo, un controllo serio e puntuale nel merito delle varie iniziative che porterà avanti questa amministrazione e lo faremo anche con la consapevolezza di essere in grado di portare proposte a questa città. Questa città ha bisogno di fare tanti passi avanti dal nostro punto di vista e noi saremo anche in grado di portare proposte. Condivideremo tutte le scelte che saranno dell'interesse della città, ma saremo fermi oppositori di una giunta che già nei primi passi ha iniziato molto male la sua storia, come hanno dimostrato le prime dichiarazioni che ha fatto il sindaco Andrea Biancani sulle vicende del parco e sullo spaccio di droga. Ci confronteremo in aula e ci confronteremo nell'interesse di Pesaro. Per alcuni il primo consiglio comunale del governo Biancani è anche il primo consiglio in assoluto. Sono vari i volti nuovi presenti in sala, sia della maggioranza che dell'opposizione. Per me oggi è un po' come il primo giorno di scuola quando si inizia un nuovo ciclo, però mi sento pronto e sono carico per lavorare insieme a tutto il consiglio per rappresentare ragazzi e ragazze e tutti i cittadini della nostra città. Porterò avanti sicuramente la voce dei giovani, come abbiamo fatto in questa campagna elettorale. Il risultato di lista c'è stato, purtroppo ci è andata male come coalizione, però ce la metteremo tutta. Io metterò tutto me stesso al 100%, sarò disponibile per qualsiasi cittadino che avrà bisogno. Ringrazio la lista Forza Pesaro e l'assessore Mina della Dora di aver creduto in me e ho tanta voglia di iniziare a imparare soprattutto e rendimi sempre, diciamo, essere sempre più presente sia all'interno di quelle che saranno le mie responsabilità sia a disposizione della nostra comunità. Spero insieme agli altri due colleghi delle Colline Castelli, quartiere 3, Lorenzo Montese e Sabina Alessandroni di continuare a portare avanti un lavoro importante che è il lavoro di riportare direttamente in consiglio comunale le problematiche dei quartieri che sono poi tutte comuni, più o meno sono gli stessi argomenti e quindi siamo in tre e speriamo in tre di poter dare il nostro contributo. Porterò avanti ancora gli aspetti sociali, gli aspetti dell'inclusione. Mi aspetto o verso la società che mi attende, verso la città che mi attende, mi aspetto che diventi realmente inclusiva, realmente accessibile, realmente accogliente.